Quando riparate un alimentatore switching, una cosa importante è un trasformatore di isolamento, un variac e un carico elettronico per poter provare l'alimentatore, tenerlo almeno un'oretta a metà della sua potenza massima, ovvero 5A impostato a 2,5A e vedere la stabilità della riparazione. Poi, dopo un'oretta che avete provato a metà della potenza, la mettiamo quasi al massimo della potenza, ovvero a 4A invece di 5A, monitorate la tensione e aspettiamo un'altra mezz'oretta e si può dire riparato. Per sicurezza, una controllatina con la camera termica alle temperature e si può dire il gioco è fatto.